A Clusone le minoranze preoccupate per il futuro dell'Istituto Fantoni chiedono più attenzione all'amministrazione comunale. La situazione rischia di andare al collasso, dicono. In consiglio approvata anche una mozione sul punto nascita di Piario. A Bergamo Polizia Stradale, ATS e Confindustria in campo per la sicurezza dei bimbi in auto, corsi per le mamme e premi per i genitori che trasportano i piccoli secondo le regole del codice della strada. Il Lions Club Città di Clusone lancia il progetto per un mondo migliore, sosterrà le spese per ospitare in Italia bambini bielorussi con disabilità. Buonasera, benvenuti a questo nuovo appuntamento con l'informazione di Antenna 2. In apertura alla cronaca, un incidente stradale l'ennesimo si è verificato intorno alle 17.30 di oggi all'interno della Galleria Montenegrone. Coinvolto un mezzo pesante, sembra si sia trattato di uno scontro frontale. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e un'ambulanza della Croce Verde di Colzate. L'ambulanza è uscita in codice rosso. Pesanti le ripercussioni sul traffico. La galleria è stata chiusa. Il tratto sotterraneo sarà interdetto alla circolazione anche durante tutta la notte, come già previsto dalle ordinanze della provincia. Ricordiamo che l'ex statale 671 della Valle Seriana nel tratto Seriate-Cene resterà chiusa per due notti, dallo svincolo di Petrengo-Torre dei Roveri allo svincolo di Cene Sud, da questa sera fino alle 6 di domani e dalle 20 di domani alle 6 di venerdì. La misura si rende necessaria per effettuare lavori di messa in sicurezza dell'impianto antincendio della Montenegrone e di pulizia delle gallerie Pradella e del Dosso. Voltiamo pagina a Consiglio Comunale ieri sera a Clusone tra i temi sul tavolo il futuro dell'istituto scolastico Fantoni e del punto nascita dell'ospedale di Piario. Sentiamo le minoranze. Nel Consiglio Comunale abbiamo affrontato su nostra iniziativa due tematiche importantissime. infatti abbiamo presentato delle interrogazioni, la prima sull'istituto Fantoni, l'istituto di scuola superiore e poi anche ovviamente sul punto nascita. Non è la prima volta che affrontiamo queste tematiche ma le riproponiamo ormai periodicamente perché di fatto c'è qualcosa che ci sfugge, qualcosa per cui siamo preoccupati. Soprattutto sull'istituto Fantoni stiamo assistendo un calo continuo e ormai sistematico delle iscrizioni, una perdita di importanza, una perdita di blasone del nostro istituto che una volta era un vanto per tutti gli studenti del territorio. Infatti c'era questa corsa a iscriversi perché era considerato un istituto di alto livello. Quindi quello che noi abbiamo chiesto all'amministrazione, al Sindaco Olini è quello di essere maggiormente attento e maggiormente incisivo su una situazione che rischia di andare al collasso come peraltro sta andando al collasso quella dell'ospedale di Piario. Per cui quello che noi chiediamo è la prevenzione perché poi curare, per amor del cielo, si potrà riuscire tutti che comunque poi si fanno partecipi, si fanno attivi, condividono tutti il discorso che bisogna recuperare anche il punto di nascita di Piario e va benissimo. Però secondo noi, soprattutto in questa fase dove siamo ancora in tempo, quello che abbiamo chiesto è che appunto ci sia una prevenzione di questa situazione e quindi si metta in campo da subito senza perdere ulteriore tempo affinché l'istituto superiore Fantoni recuperi il territorio e recuperi la sua importanza che aveva un tempo. L'interrogazione in merito al punto nascita di Piario ci ha visti soddisfatti nella risposta perché ha portato all'approvazione e all'unanimità di una mozione che vede il sindaco di Clusone parte attiva per la creazione di un tavolo di lavoro permanente per garantire il mantenimento del punto nascite e del presidio ospedaliero di Piario. Noi crediamo che il futuro dell'ospedale di Piario vada costantemente monitorato non solo con riguardo al punto nascite con riferimento al quale ci auspichiamo che arrivi la deroga a breve ma purtroppo il problema sarà destinato a ripresentarsi se non si valuta un investimento costante nei servizi e nella migliore qualità dei servizi offerti e questo ce lo deve garantire l'azienda territoriale unitamente a Regione Lombardia che poi stanzia i fondi. Ha preoccupato personalmente noi il fatto che al presidio di sabato non fosse presente nessuno per l'azienda e per i lavoratori anche dell'azienda territoriale. Confidiamo che la pressante, la costante attenzione che gli amministratori della zona, in particolar modo il sindaco di Clusone ieri ci ha rassicurato in questo senso, verrà garantita nei prossimi anni perché è un tema che dovrà rimanere sulle scrivanie e sui tavoli dei sindaci costantemente, possa portare a una maggiore tranquillità non solo nel breve periodo, non solo sul punto nascite ma anche nel lungo periodo per un futuro di servizi a garanzia dei cittadini nell'Alta Valle Sieriana. Sul Fantoni mi sono dichiarata insoddisfatta in merito alla risposta data all'interrogazione perché avevamo chiesto quali fossero le azioni messe in atto successivamente alla dissociazione dell'università conseguente alla bocciatura da parte del collegio docenti di quelle modifiche al piano dell'offerta formativa, ma non è stato fatto nulla in concreto, ci è stato detto che la scelta spettava al collegio docenti e quindi questo continuare a mettere le mani avanti, dire che le decisioni non spettano agli amministratori, è vero che ci sono magari degli organi che hanno le poteri vincolanti con le proprie decisioni, però vanno forse un po' incentivati a garantire gli interessi del territorio e gli amministratori sono lì per fare questo. Ieri sera a Crusone ha debuttato anche il nuovo Consiglio Comunale dei Ragazzi, sentiamo Andrea Filisetti. Insediato ieri sera a Crusone il nuovo Consiglio Comunale dei Ragazzi, Sindaca, Alessandra Minuscoli, Consiglieri, Gabriele Savoldelli, Giorgia Calomeni, Nicola Barbetta, Federica Baronchelli, Greta Chiarelli, Daniele Colombo, Stefano Benzoni, Elena Giudici, Vittoria Sertori, Jessica Bigoni, Gabriele Corna, Eric Boni, Chiara Giudici e Alice Bosio. I giovani amministratori sono nati tra il 2003 e il 2005. Il sindaco Paolo Lini, oltre a ringraziare e cercare di coinvolgere i ragazzi, sin da subito nella vita della cittadina ha voluto dare ogni ragazzo un piccolo omaggio. Mi chiamo ai consiglieri. Ciao, ciao. Alice, buone Alice. Alice. Amore. Amore, dicevo già sempre. Baronchelli, Federica. Ci ha aggiunto un momento, no? Guarda, senti. Grazie. Ciao. Chiarelli, Greta. Ciao, Greta. Sono uno, Daniele. Va bene. Stefano Sainte, Luigi Ciena. Ciao, va bene. Settore Vittoria. Copra la Miele. Servizi in atto, però, vi vedo, non sarà l'ordine, ma è nessuno. E' quello che non serve la mia parte. Ciao, Greta. 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 Sì, Greta. Sì, Greta. Sì, ci chiamo. Sì, è l'ordine. Noi, andiamo. Spesso a me, mi dico la barbetta di coro. Sì, va bene. Sì, va bene. Allora, perché ti devo fare uscire più bello di tutti? Sì, la ti vedi. Così, la me la ti vedi. Tanti auguri. Alcuni sindaci della Valle Seriana hanno partecipato ieri alla seduta del Consiglio Provinciale di Bergamo che si è occupato, tra l'altro, dell'annunciata chiusura del punto nascita di Piario. Il Consiglio ha approvato all'unanimità una mozione in cui si chiede formalmente il riesame del provvedimento emanato dal Ministero con la contestuale sospensione degli effetti. Questo per consentire la riattivazione dei punti nascita che, pur non avendo raggiunto il valore soglia dei 500 parti in un anno, non presentino criticità manifeste e riscuotano il pieno gradimento dell'utenza. Proseguiamo. In Italia ogni anno oltre 100 bambini perdono la vita o subiscono gravi danni, spesso irreversibili perché coinvolti in incidenti stradali. Per sensibilizzare su questo tema, a Bergamo è stato messo in campo il progetto Io Parto Sicura. Scopriamo di cosa si tratta. Il termine Io Parto Sicura è riferito proprio al momento della vita di una donna un po' particolare, quello della gravidanza, quanto vogliamo prevenire quelle tragedie che avvengono purtroppo ancora sulle nostre strade. Desideriamo quindi comunicare alle donne durante i corsi di preparazione al parto dell'ospedale Bolognini di Seriate come si può trasportare in tutta sicurezza il loro figlio. Quindi partiamo da questi corsi a partire dal mese di gennaio dell'anno prossimo e poi successivamente anche sulla strada, tutte le volte che fermiamo per un normale controllo un veicolo e verifichiamo che comunque i bambini sono regolarmente seduti nella loro ritenuta nel seggiolino, dare un piccolo premio che consiste in un diploma, in un adesivo proprio per far vedere che in quel momento il papà, la mamma, lo zio, la zia e il nonno sta guidando responsabilmente. Abbiamo creato una brochure, una brochure di una ventina di pagine con tutti i consigli da dare alle neomamme e per questo vorrei ringraziare anche tutte le aziende produttrici di seggiolini che ci sono nella nostra provincia e Confindustria che ha potuto realizzare questa brochure per la polizia stradale. Quindi tutti i tipi di seggiolini dalla nascita fino a quando il bambino, ovviamente deve avere un'altezza inferiore a un metro e cinquanta, non sarà più appunto talmente piccolo da dover usufruire dei seggiolini. Fondamentale è la collaborazione della polizia stradale a questo progetto VHP che è nato ormai da sei anni e rappresenta la promozione da parte di Confindustria Bergamo in partnership con l'ASL ATS di Bergamo della salute del lavoratore intesa non in maniera tradizionale sicurezza e salute sul posto di lavoro per agenti endogeni dal punto di vista della sicurezza sul lavoro ma per quanto riguarda la promozione di stili di vita corretti applicati volontariamente da aziende e da lavoratori. All'interno delle sei aree che abbiamo individuato per la promozione della salute sicuramente c'è la parte di sicurezza stradale. Sicurezza stradale perché gran parte dei venti luttuosi della provincia, feriti anche per lavoro, sono in relazione a infortuni stradali. Il nostro contributo è stato quello di essere un partner per la polizia stradale, questo bellissimo progetto che hanno loro di andare nelle aziende per fare corse di sicurezza stradale e coinvolgere alcune aziende leader del territorio bergamasco, leader nazionali e internazionali della produzione di attrezzi, seggiolini nello specifico per far sì che i bambini siano sicuri nei trasbordi stradali, quindi all'interno delle automobili che hanno contribuito con una serie di immagini, di competenze tecniche e alla fine siamo arrivati a fare un libretto che invito tutti a leggere perché è veramente molto bello, che serve di indicazione ai genitori come gestirli, i bambini in maniera corretta secondo le norme in sicurezza. I Lions Club di tutto il mondo il prossimo anno festeggeranno il centenario dell'associazione. In occasione dell'anniversario il Club Città di Clusone, Valle Seriana Superiore, ha in programma diverse iniziative. Scopriamone alcune. Poi abbiamo i service del nostro club di quest'anno. Verrà concluso il service in book, ricordo i service in book sono dei libri in simboli che vengono messi in circolazione nelle biblioteche della Valle Seriana e poi un nuovo progetto, un nuovo progetto, questo è di quest'anno, che noi abbiamo chiamato per un mondo migliore. Si tratta in buona sostanza di sostenere il costo per far venire in Italia alcuni bambini bielorussi, bambini disabili, che sono oggi ospitati in orfanatrofi, in istituti in Bielorussia perché orfani. Lo scopo è quello di far trascorrere loro un soggiorno in Italia per motivi di salute, ovviamente, ma anche per integrarli con gli altri bambini bielorussi che vengono ospitate dalle famiglie di Clusone e dei paesi dei limitrofi a Clusone. Questi bambini verranno ospitati a Clusone, avranno la possibilità di frequentare la scuola dell'Istituto Comprensivo di Clusone e di integrarsi un po' con tutti anche nel mondo dei giochi. Avremo poi due incontri, stiamo pianificando due incontri aperti al pubblico. Uno sarà il 18 febbraio con un medico ricercatore del Policlinico di Pavia, il cui tema sarà le patologie della prostata dall'ipertrofia al tumore. Mentre il 18 marzo, in collaborazione con i giovani Leo, verrà organizzato un convegno sulla contaminazione da metalli pesanti in Valle Seriana, la situazione in Valle Seriana e le possibili difese a tutela dell'ambiente e della salute. Questo è quanto vogliamo portare avanti quest'anno come Lions Club, Città di Clusone e Valle Seriana Superiore. Del centenario del Lions Club International si occuperà anche Decoder, l'approfondimento del mercoledì sera condotto da Andrea Filisetti. Ospiti in studio, oltre al presidente del club di Clusone, Roberto Fornoni, ci saranno il vicepresidente Demetrio Trussardi, il past presidente Franco Belinghieri e Gianni Lazzari, il cerimoniere Angela Grignani-Scainelli. La puntata andrà in onda questa sera alle 20.30, le repliche domani alle 14 e venerdì alle 23.15. E domani nell'appuntamento di Target in onda alle 19 e poi nel contenitore delle 20.30, una nuova puntata di Intervistabili, la nostra rubrica con i ragazzi del CSE di Ponte Selva. Per questo nuovo appuntamento siamo stati a Ponte Norsa e Ponte Selva. Vediamone un'anteprima. che cosa ne pensi del CSE di Ponte Selva? Ma devo parlare bene o male del CSE di Ponte Selva? Franci cosa devo dire? Parlo bene o male? Bene. Eh ma parlano sempre tutti bene? Se io parlo male? No? No. No, no, non si può parlare male del CSE di Ponte Selva. È una bella comunità, possiamo chiamarla così perché è molto attiva. Come potete vedere i ragazzi stanno girando e ci stanno tenendo compagnia in queste settimane, in questa trasmissione per farci conoscere un po' tutte le nostre zone. E il CSE di Ponte Selva è proprio bello perché è questa comunità dove questi ragazzi possono davvero esprimersi al meglio. Esprimersi anche in tanti laboratori, non ultimo quello fatto degli alberi di Natale. Sono veramente belli quelli che hanno addobbato Castione, Rovetta e soprattutto si respira proprio questa aria di famiglia, di casa, di comunità. Tante volte anche con i ragazzi di Ponte Selva e anche di Ponte Nossa ci recchiamo da loro proprio per vivere anche dei momenti particolarmente belli insieme attraverso alcuni giochi, il gioco della tombola, la merenda, che è importante anche quella. E questo ci permette davvero di poter parlare bene della comunità di Ponte Selva, del CSE di Ponte Selva. E allora questo è un po' quello che penso e quello che vivo di fatto anche con loro ogni tanto, magari non spesso, però ogni tanto sì. Com'è nata la raccolta dei panchi alimentari? Allora, la raccolta dei panchi alimentari è nata un po' di anni fa perché c'erano delle esigenze, c'erano dei bisogni, persone che avevano bisogno di aiuto perché avevano perso il lavoro, perché per tanti motivi e quindi è nato così, siamo partiti un po' di tempo fa e poi pian pianino il numero degli indigenti chiamiamoli così è aumentato e siamo andati avanti un po' con la Caritas di Bergamo, un po' con il Banco Alimentare di Milano e facciamo un po' la distribuzione mensile, abbiamo diverse famiglie, facciamo due distribuzioni al mese ogni 15 giorni e poi circa un anno fa è nato un progetto con i ragazzi come Matteo che ci aiutano a preparare gli alimenti, ci riempiono le scatole, mettono dentro i quantitativi di alimenti che noi scriviamo, tanto di pasta, tanto di latte, di zucchero, vero Matteo? E quindi ci fanno un grande lavoro, oltre a quello ci tengono in ordine il magazzino, le date di scadenza, tengono pulito, ci fanno un lavoro che è impagabile. Ci fermiamo per una pausa, al rientro parleremo di presepi ma anche di sport. Riprendiamo con il telegiornale. Più di mille persone visitano ogni anno il presepe che Armando Tasca prepara nel cortile della sua abitazione a Villadogna. Quest'anno tra le statuine anche un omaggio alla moglie scomparsa. Anche quest'anno in prossimità del Natale siamo venuti a trovare Armando Tasca di Villadogna che come sempre ci ha accolto nel suo cortile dove allestisce questo bellissimo presepe. Quest'anno c'è una novità particolare, una novità proprio in chiave locale. Che cosa ha voluto mettere nel presepe? Tutte le baiti del Möschel che le ha costruite mio fratello Silvano facendo nevicare. E poi la cosa quest'anno è un particolare molto più significativo il Möschel perché abbiamo messo la passerella intitolata Mia Moglie dove la usano tutti i passanti di Villadogna, di Ognia, di Erdesio da tutte le zone che passano e le persone che passano là e mi ringraziano perché non devono più calpestare e ne andare nell'acqua. E quindi anche per ricordare questa passerella, questo suo gesto, ha voluto inserire le baiti nel presepe. Quello sì, è perché siamo innamorati, era innamorata mia moglie come ero innamorato io. Abbiamo trascorso solo 17 anni con i nostri tendaggi eccetera e si ricordano in tante persone per il caffè, per l'ospitalità che ha sempre dato mia moglie. Ci sono poi altri riferimenti locali, ad esempio le baiti di Maslana. Ci sono tre baiti di Maslana, è sempre mio fratello che le ha costruite. C'è uno particolare che è la Fortezza Antonia dove non c'entrerebbe col preseppio della Natività ma c'entra perché in quella fortezza Gesù è stato condannato a morte. E l'ha costruita sempre suo fratello. Quanti sono i mattoncini per fare questa fortezza? 650. Un grande lavoro di pazienza. Un grande lavoro di pazienza e anche capacità perché è molto bravo. È come un lavoro di pazienza e fare tutto il presepe. Sì, è pazienza. Mi sono fatto aiutare dal fratello prima di me che ha solo 7 anni più di me e abbiamo fatto una fatica enorme però ci siamo riusciti. La contentezza poi di vedere tantissima gente a visitarlo. Domani dovrebbero venire addirittura i bambini dell'asilo e lì è la gioia immensa perché mi fanno la poesia, mi fanno tante cose. Mi ricordano proprio la gioventù. Ha mai contato quante persone in un anno più o meno vengono a visitare? Non le ho mai contate però basandoci un po' sulla questione delle offerte che fanno per il Padre Diego e un po' le persone che dovrebbero girare circa mille persone e non è poco. Ha accennato a Padre Diego questo presepe, ha anche uno scopo di solidarietà, è giusto sottolinearlo. Sì, infatti Padre Diego, cugino di mia moglie, facciamo sempre tutte le offerte, le diamo a lui personalmente e chi viene a visitare potrebbero leggere la lettera e ringrazia tutti i visitatori di questo presepe con l'offerta che hanno fatto e spiega dove ha speso i soldi. Ricordiamo dove si trova Padre Diego. In Brasile, è la sua, chiamiamola, seconda patria. E c'è anche un tocco di Brasile nel presepio, giusto? Sì, ci sono degli animali che lui mi ha regalato e li metto fuori per far vedere che anche lui è presente con le sue rappresentazioni di animali, però è lui che mi ha regalato queste cose. E adesso lo sport, il calcio. L'Atalanta è tornata alla vittoria ieri sera nell'anticipo della diciottesima giornata del campionato di Serie A. Per noi allo stadio c'era Elisa Cucchi. Atalanta 2, Empoli 1, con gol vittoria per l'Atalanta al 94esimo a firma di Marco D'Alessandro. Una partita dominata sotto ogni punto di vista, mancava solo il gol, quel gol che è arrivato proprio allo scadere del match. Così l'Atalanta chiude l'anno al sesto posto in classifica con 32 punti, sempre ad un passo dall'Europa. Beh sì, è una caratteristica che ormai ci va dato atto che non mogliamo niente perché non è la prima volta che rimontiamo una gara, non è la prima volta che segniamo nel finale. Insomma, questa squadra a carattere l'ho dimostrato, abbiamo fatto 32 punti, una cosa incredibile, una cosa impensabile, neanche più positivi. Potevano immaginare una cosa del genere. Ce la godiamo in queste vacanze e poi ripartiremo concentrati per cercare di far bene. Non ero entrato benissimo perché comunque capitano giornate dove non si riesce a star bene, non è come contro la Roma che riesce ad entrare, insomma a cambiare un po' le cose. Può succedere, oggi mi era capitata una giornata un po' particolare, anche per merito degli avversari che mi impedivano determinate giocate. Io avevo proprio la voglia di cercare il gol, andavo in aria, chiudevo più del solito, più di quelle che poi sono un po' magari anche i miei difetti. Andavo dentro e quella palla lì, ho visto partire la palla, la tocco, speravo che rimanesse lì quella palla e quando l'ho vista lì l'ho appoggiata dentro, è arrivata una gioia incredibile perché anche non mi era mai capitato qui di segnare all'ultimo minuto, ma neanche in carriera mi era mai capitato di segnare all'ultimo minuto il gol vittoria, è stata una cosa indescrivibile. Ma il pandemonio sotto la curva con tutta la panchina? No, volevo, mi sono tolto la maglia, volevo andare sotto la curva, ma non mi hanno lasciato neanche il tempo, mi hanno sommerso i compagni e stavo anche soffrendo lì sotto perché ce l'avevo tutti sopra, non so quanti erano, ma stavo morendo lì sotto, però lo riparei volentieri. Cosa si aspetta dal 2017? Beh, io cerco sempre di, vorrei giocare di più, insomma, riuscire personalmente, parlo di, ecco, a togliermi soddisfazioni come quelle di questa sera, spero veramente di riuscirci, invece per la squadra spero veramente di ripercorrere il girone di ritorno sulla falsariga di quello d'andato. Il calcio è tante volte strano, ma siamo riusciti perché abbiamo creduto in nostro gioco, abbiamo creato tanto e alla fine abbiamo fatto questo gol e chi porta tre punti, questo è più importante. Certo, siamo una squadra giovane, lavoriamo giorno per giorno molto intenso, vogliamo imparare, abbiamo questa fame per crescere e per quello penso possiamo fare ancora tanto. Ma vediamo, siamo contenti di cosa abbiamo fatto fino ad adesso, tutti noi, vediamo, noi non pensiamo tanto di queste cose, cosa possiamo fare noi, abbiamo fatto la nostra salvezza, vediamo, facciamo le nostre prestazioni come abbiamo fatto in questo anno e vediamo alla fine dove arriviamo. Al Museo della Basilica di Clusone è possibile compiere un viaggio nel mistero del Natale attraverso opere d'arte, presepi dal mondo e presepi napoletani. Ce ne parla Mino Scandella in questa puntata della rubrica Racconti di ieri. Mino Scandella, qui al Museo della Basilica di Clusone è stata allestita una esposizione dedicata alla Natività. Alle sue spalle un presepio napoletano. È un presepio napoletano del XX secolo, è opera di un artista importante, un artigiano, che ha ripreso negli anni 40 del 900 la tradizione dei presepi napoletani settecentesca. Sappiamo che la tradizione dei presepi napoletani è molto antica, addirittura sappiamo che ha avuto grande influenza a Napoli, il San Gaetano e anche il nostro Beato Marinoni nella rifusione della tradizione del presepio, che poi è stata ripresa nel Seicento e nel Settecento, soprattutto nel Settecento, e il presepio che abbiamo alle spalle, ripete proprio la tradizione dei presepi settecentesca. È opera di Albino Fattori e vediamo che sono diverse, una quindicina di figure, oltre alla Natività, sono figure, manichini in filo di ferro, sagomato. Grande importanza viene dato ai costumi, che sono anche fatti con tessuti antichi, con broccato, eccetera. La testa è intera cotta, con gli occhi di vetro, le mani e i piedi in legno. È un'opera veramente curata, eccezionale, ripresa però dalla tradizione della popoletana del Settecento. Gli elementi sono quelli usuali, oltre alla Sacra Famiglia, ci sono ciani di costruzione in gesso dell'ambiente, di solito sono rovine antiche con la scala dietro che sale, e poi gli elementi del folclore napoletano, la locanda, gli avventori, i pastori sulla scala e i maici. Adesso per noi una breve pausa e poi la parte finale, a tra poco. Verso la fine del telegiornale con i programmi di Antenna 2, iniziamo dal canale principale, questa sera al termine del Tg, la preghiera d'avvento a cura dell'oratorio di Clusone. Alle 20.30 un nuovo appuntamento con Decoder, alle 21.30 uno speciale sport dedicato alla festa sociale del Mountain Bike Parre, alle 22.30 la seconda edizione del Tg, alle 23.15 Antenna 2 Sport. Il canale News 218 alle 21.30, il telegiornale e alle 22.10 l'anteprima Target. Questa sera ci occuperemo dell'incontro con l'alpinista Ermanno Salvaterra, organizzato ad Albino per i 70 anni del CAI. Il canale sportivo 628 alle 20.30, la partita di calcio Città di Dalmine e Prada Lunghese alle 22.20, tempi supplementari. L'Anna Nacco domani è giovedì 22 dicembre, il sole sorge alle 7.54 e tramonta alle 16.44. La luna è all'ultimo quarto, sorge alle 1.07 e tramonta alle 13.07. La chiesa ricorda San Flaviano. Infine le previsioni del tempo, domani su Alpi e Prealpi Lombarde, cielo sereno o poco nuvoloso su tutti i settori, temperature stazionarie. E con il meteo è tutto, grazie per averci seguito e buona serata. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS